buongiorno cuori buongiornissimissimo eccomi qui col secondo video in collaborazione con la cobiz queste sono le penne questo il loro codice e adesso vorrei provare a riempirle tutte e due con i miei fiori e con della foglia oro ovviamente come sempre servono i guanti la mascherina questo per mescolare e questo per inserire i fiori e speriamo bene e anche adesso io lo devo prendere lo scotch carta che cercherò di fermare qui e la mitica pinza per prendere i fiori e la fil cristal perché userò sempre la fil cristal adesso mi sono guarda via solo quella diciamola tutta volevo usare anche quella veloce ma ho la fil cristal e quindi si farà con quella bene cuori il contenitore ovviamente dove mettere la resina e questo è comodissimo perché ha la puntina che viene giù proprio si può mettere giù a gocce bene cuori mi sembra tutto a tra poco preparo la resina e poi iniziamo assieme ecco qua ho preparato tutto ho smontato tutta la penna ho tolto anche qui dietro ci ho messo lo scotch carta però sinceramente non serve perché è tutto saldato e adesso provo a tenerla ferma dritta così tutte e due poi ho deciso che per fare un buon lavoro bisogna mettere dentro un po per volta perché altrimenti i fiori salgono tutti in superficie quindi io inizierò a metterne poca i primi fiori tiado a metterne poca i primi fiori salgono tutti inizierò a metterne poca i primi fiori Grazie a tutti. Oh, fa cuore, mi si è spenta la videocamera, non me ne sono accorta. Spero che un po' si sia visto che ho inserito i fiori pian piano, guardate, e poi con il calore ho cercato di scoppiare le bolle. Adesso lascio tutto da aspettare e si aspetta domani. A domani cuori, scusate, se è saltato, ormai l'ho fatto, non ho altre penne per farvi vedere, spero di recuperare. A domani cuori! Dopo un giorno eccoci qui, ho terminato, adesso ricomponiamo le penne e vediamo, wow, guardate, stupendo. Mettiamo le penne, dai, ricomponiamo le penne e poi facciamo le varie considerazioni. Allora, qui ci va questo tappino. Eccolo qua, vediamo, lo sto mettendo anche storto. Ma vi pare, cuori, che io faccio fatica a mettere pure i tappini? Non ce vedo niente qua. Eccolo qua, poi si deve mettere questo, carinissimo. E questo, no, cuori sono imbranata. E questo, sì dai. Eccolo qua. Mentre invece, dove ho messo l'altro? Eccolo qua, questo va qua, lì, questo va qui. Belle! Cuori, che ne dite? Cosa ne pensate? Adesso magari questa l'ha sposto in un punto un po' più vuoto. E qui si vedono tutti i fiori. bella, 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 bella. E la penna si fa così. Vi lascio tutto il link. Vediamo che stavo facendo sì. Vi lascio il link nel box informazioni. Liberiamo anche questa. Allora, adesso sarò più veloce perché sarò più brava. Dite, forse? Forse? Dai, dai, su! Forza, 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 forza. Aspetta, questa, ecco, questo è più grande. Ecco, pure i cerchietti sono diversi. Quindi, così. Aspetta, vediamo. Stavo pensando che secondo me, qui dobbiamo mettere un po' di colla. Un po' di colla. No, non si può mettere la colla, perché poi come fai a cambiare? Quando la... Quando finisce il... Allora, eccoci qua. Guardate. Qua addirittura si vede ancora meglio. Si vedono ancora meglio i fiori. Sì, bisogna... Forse devo tirare un po' più in fuori questo. Vediamo. Era troppo dentro. Eccolo qua. Perché qua c'è dentro... Il ricambio. Quindi, di conseguenza, si deve fare così. Bene, cuori, che ne dite? Io sono strafelice. Mamma, se mi piacciono. A voi piacciono? A me sì tanto. Ciao, cuori. Ci vediamo presto col prossimo video. Grazie di seguirmi e bacioni. Baccionissimi. Ciao. 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 Grazie a tutti.